A Tellaro torna una tradizione antica, addirittura dal 1970, domani appuntamento con il Natale subacqueo. In cosa consiste? Sì, domani sera ci sarà questo evento, giusto diceva dal 1970, Gesù Bambino viene portato fuori dalle acque di Tellaro, dall'acqua della Marina di Tellaro, dai sub, dalla spedizione blu di La Spezia. Il paese tutto viene illuminato durante la giornata con illumini di cera e poi però tutti contribuiscono a posizionarli e ad accenderli e viene tutto illuminato ed è uno spettacolo unico. Un'atmosfera unica e suggestiva per questo borgo già meraviglioso di per sé, che appunto per il Natale offre il Natale subacqueo, ma anche altre manifestazioni correlate. Dalle 22 il coro gospel, Joyful Singers di Avenza, intrattiene la gente con i canti natalizi. E poi quando avviene la nascita dall'acqua del bambino Gesù, partono subito dopo i fuochi d'artificio. Una tradizione che appunto arriva al suo 46esimo anno e che appunto per la sua storicità è legata anche ad un altro fatto, ossia alla statuina del bambino. Che storia ha? Sì, la statuina del bambino è stata donata da Giovanni Paolo II, è una statuina in cera che è stata poi restaurata insomma dalle suore Clarisse di Sarzana ed è anche quella, noi ci teniamo molto insomma a questa presenza, questa statuina che è stata donata dal Papa e cerchiamo di tenerla il meglio possibile.